Grazie a tutte le attività ho un cash flow mensile consolidato da almeno un paio d'anni, superiore ai 10k mese. Faccio parte di Liberi dal lavoro da 4 anni, ho visto proprio nascere questa fantastica realtà, l'ho vista crescere e diventare qualcosa di fantastico. 4 mesi fa, grazie appunto alle opportunità che ho avuto con Liberi dal lavoro, mi sono licenziato e ho iniziato a far diventare Liberi dal lavoro la mia unica attività. Sì, perché eseguo praticamente tutti gli strumenti e le attività presenti in Liberi dal lavoro. Faccio parte del club esclusivo dei 100k, grazie a tutte le attività ho un cash flow mensile consolidato da almeno un paio d'anni, superiore ai 10k mese. Mi sento soprattutto di dare questa testimonianza e di voler essere stimolo per chi è agli inizi, perché questo è un percorso che veramente ti può stravolgere la vita, te la può migliorare da tutti i punti di vista, non solo economico ma anche e soprattutto a livello personale, di crescita personale. Proprio per questo è fondamentale partecipare ai meeting, partecipare al meeting mi ha dato l'ulteriore spinta, tanto che adesso sto progettando, in realtà sto proprio pianificando, visto che ho già deciso, di trasferirmi a Tenerife, quindi il 2022 sarà l'anno del trasferimento. Un saluto a tutti e appunto vi aspetto ai meeting.